Canederli e formaggi 400 grammi di panna e rafferro 2 bicchieri di latte tiepido 2 uova Lascio riposare per mezz'ora Sale, pepe, noce moscata 2 cucchiai di prezzemolo Rosola la cipolla nel burro e aggiungo i formaggi dopo Pasto bene con le mani Su un vassoio metto della farina Formare i canederli e metterli nel vassoio Cuocerli in acqua bollente salata per 10 minuti Condire con burro e salvia Buonissimi!